Il nord del Verghereto è bloccato, quindi la superstrada si ha a Rezzo, alternativo, perfetto, buongiorno, buon viaggio. Blocco a Sansepolcro della E45 a causa neve, il Verghereto è bloccato e quindi da qui si può soltanto uscire, insomma davvero un caos in questa arteria. Quindi ho pazienza, qua c'è un parcheggio idoneo dietro l'hotel Borgo, vede ci sono altri mezzi, oppure per a Rezzo, autostrada 1. La neve caduta durante la notte ha causato non pochi disagi, tante le segnalazioni sui social network, una su tutte nel gruppo Vergogna E45, da parte degli automobilisti che denunciano la scarsa sicurezza del manto stradale e l'insufficienza di mezzi spazzaneve e spargisale. All'altezza della galleria Verghereto un mezzo pesante è rimasto bloccato, risultato una coda di diversi chilometri che si è formata da Sansepolcro in direzione Cesena. Una nevicata che era stata annunciata dalle previsioni meteo ma a quote più alte e che ha mandato letteralmente in tilt il traffico in questa importante arteria che collega il centro Italia. Lei dove deve andare? Devo andare verso Venezia. Da dove passerà adesso? Penso di là, Belbologna.